Costruire percorsi e rilanciare idee oltre le difficoltà attuali. È il senso della tre giorni delle Acli che si sono ritrovate ad Atripalda. Le povertà si sono moltiplicate, investono il ceto medio. Ogni giorno assistiamo tante famiglie alle prese con i rincari e l'inflazione alle stelle. Acli e Diocesi Irpina sono in campo per aiutare sempre più persone in difficoltà. La domanda è aumentata, si pone un problema serio per cittadini e imprese. Qui c'è un problema serio nelle tasche delle persone, delle imprese e quindi il rischio non solo di inflazione ma il rischio soprattutto che non si riesca più a produrre, non si riesca più a avere uno stipendio decente in una situazione già un pochino veramente difficile delle persone. Noi ci siamo, siamo a fianco delle persone, siamo con la Chiesa naturalmente. In questo momento le Aghe sono impegnate soprattutto nel patronato per dare anche un sostegno alle persone. Ma siamo anche presenti sulla formazione professionale, aiutare le persone a trovare un lavoro o a riprofessionalizzarsi nel caso in cui perdono la loro attività. Che la situazione si è allargata, la gente che ha bisogno di sostegno si è moltiplicata. Sono aumentate anno dopo anno e in questa fase sono moltiplicate. Quindi si fa fatica anche in diocese un po' a trovare delle giuste collocazioni e anche delle soluzioni.